Adescava su Facebook ragazzini dai 13 ai 16 anni, tra cui almeno 6 fanesi e 2 di origine albanese, li faceva ubriacare e poi li violentava. A Shaulian, un uomo di 40 anni, anche lui, albanese, è stato condannato dal Tribunale di Ancona a 8 anni di reclusione per i reati di prostituzione minorile, violenza sessuale, corruzione di minori e violenza privata. Il giudice, inoltre, ha disposto l'espulsione dall'Italia al termine della pena, che sta scontando fuori regione. I fatti risalgono a luglio scorso, quando i poliziotti del commissariato di Fano, coordinati dal vicequestore aggiunto Stefano Seretti, hanno ritrovato tre minorenni ubriachi di 13, 14 e 15 anni in un parco vicino alla zona dei passeggi. Dalle loro dichiarazioni rilasciate, in quell'occasione è emerso un terribile quadro di violenze e abusi. L'uomo li portava a Ronco Sambaccio a volte in una villa, all'insaputa dei proprietari, quando questi non c'erano, oppure in un casolare isolato. L'orco si faceva presentare l'amico dell'amico, gli somministrava vodka e sprizze e approfittava di loro sessualmente, a volte pagandoli per le prestazioni con piccole somme di denaro, dai 3 ai 20 euro, o addirittura con la promessa di pacchetti di sigarette. Poi, alcuni giorni dopo la vicenda del parco, il quarantenne è stato arrestato, quando il 18 luglio gli agenti lo hanno colto in flagranza di reato. Si era infatti appartato con un sedicenne nel casolare abbandonato. La polizia ha ricostruito che i soprusi duravano da gennaio 2014, ma gli errori non sono finiti qui. Si è scoperto in seguito che i ragazzini, prima degli abusi, assistevano alle violenze compiute nei confronti di altre giovani vittime. A quelli che assistevano per la prima volta faceva assistere all'atto sessuale che compiva con uno o due dei ragazzini e poi la volta successiva passava a fare gli atti sessuali con quelli che precedentemente avevano assistito. Venivano adescati tutti a Fano, quasi centro città, in zone semicentrale di Fano, in zone lungo la via Roma, la via Roma di Fano, dove ci sono spesso dei parchi, dei parchetti, e lui li avvicinava lì, entrava in contatto con questi giovani e giovanissimi. Avrebbe continuato se, ripeto, non fosse stato per il nostro immediato intervento. Julian, che utilizzava il suo profilo Facebook in cui compariva con il nome Giulio, era già finito in manente nel 2013 per lo stesso reato compiuto a Lucrezia. In quell'episodio era stato denunciato anche per abbandono di minore, infatti per portare a termine la violenza aveva lasciato suo figlio da solo. È essenziale la collaborazione, la Polizia di Stato vive di collaborazione. Mi è sembrato giusto e doveroso lanciare questo appello nei confronti di tutti, un appello generico nei confronti di chi è a conoscenza di episodi che possono interessare queste persone deboli, quindi i minori verso cui noi dedichiamo veramente tanto tempo, anche nei confronti delle anziane, delle persone che hanno bisogno. Ma ho voluto fare anche un appello generico nei confronti di quest'orco, cioè se qualcuno è a conoscenza di persone che hanno frequentato questo signore o se l'hanno visto in qualche luogo particolare, noi saremo grati di accogliere questa dichiarazione fatta in modo molto anche generico, molto riservato, perché poi noi vorremmo comunque completare e dare un cerchio definitivo a tutta l'attività investigativa nei confronti di questo personaggio e di questi orchi che si rendono protagonisti di questi episodi veramente obrobriosi. a tutta l'attività pubriosi.